Bentornati su MyFootballJersey. Torniamo in Inghilterra per vedere la squadra dell'Eister. Questa è una maglia della squadra dell'Eister, la seconda, in edizione fan. L'edizione fan è quella un po' più confortevole, con materiali melotecnici, pensata per i tifosi. La squadra dell'Eister. La maglia non è niente male. Mi piace questa banda, in tutto sommato è una maglia abbastanza semplice, di un'ottima qualità, sicuramente di una squadra che ha vissuto nel recente passato uno splendore con la vittoria del campionato. Il costo lo volete qui sopra? Beh, su questo c'è poco da aggiungere. Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti tutti qua sotto, nella descrizione del video. Andate a vedere perché sempre in descrizione trovate anche un link col quale potete ottenere uno sconto di 3 dollari. Se volete recensioni come questa tutti i giorni, l'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al canale. Semplicissimo! Per oggi è tutto, alla prossima! Per oggi è tutto, alla prossima!